Ragazzi è successo un casino Allora stavo editando in questo momento l'episodio 65 della Minecraft Vanilla Quando mi sono accorto che il file audio di questo episodio non c'era O almeno il file audio della mia voce era corrotto Invece il file audio del computer era integro Allora ragazzi l'unica cosa che vi posso dire è vi faccio vedere i momenti più clou di quell'episodio Dove praticamente vado in miniera e trovo molti materiali incluso qualche diamante Anche se non mi è andata molto bene Ovviamente troviamo anche tanto ferro, abbastanza redstone, tanti lapislazzoli E ovviamente un po' d'oro Quindi ragazzi vi faccio vedere queste parti e mi dispiace E questa cosa mi ha un po' travolto Perché non me l'aspettavo e ci potrebbero essere un po' di cosini con gli altri episodi Che ho già registrato perché io vogliavi registrare Poi non edito perché sono fulbo Comunque buona visione Per la visione Grazie per la visione! 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 ino true! Grazie per la visione! Vi farò di one! Grazie per la visione! Vi prendiamo una visione! Aiut textbooks! Ecco tutto, bella!